In poche ore due pini caduti a terra è bastata una giornata di pioggia e prima in via Canestrini e poi in via Cernaia a Padova i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere due grossi alberi che si sono sradicati. Il primo episodio in via Canestrini nella notte tra giovedì e venerdì il pino è caduto in un cortile privato senza provocare feriti. Quello di ieri mattina invece in via Cernaia poteva avere conseguenze ben più gravi. Il pino marittimo infatti è caduto in pieno giorno in una mattinata di traffico intenso centrando un'auto e un furgone. Quattro persone sono rimaste leggermente ferite e sono state estratte sotto shock dai pompieri. Si tratta di due alberi piantati in due aree private. In particolare la situazione di via Cernaia era stata segnalata dal comune di Padova ai proprietari chiedendo che il pino venisse potato e alleggerito. L'assessore alberdo del comune di Padova Antonio Bressa alla luce di questi due gravi episodi invita i privati a monitorare le condizioni di salute dei propri alberi. Siamo di fronte ad aree come questa private dove comunque questi alberi hanno un'esposizione sul suolo pubblico e quindi ci possono essere evidentemente fattori di rischio per l'incolumità pubblica come abbiamo visto. In questa occasione è importante che tutti facciano la propria parte, il che vuol dire verificare gli alberi, anche quelli che abbiamo all'interno dei nostri condomini, quelli che abbiamo all'interno dei nostri giardini. Il comune lo fa con i propri alberi e è importante che tutti partecipiamo in questa attività di prevenzione perché se poi cade un albero nel posto sbagliato, al momento sbagliato, veramente possono esserci problemi seri per le persone e le cose e questo dobbiamo assolutamente evitarlo.